3. Io sono uguale agli altri cittadini davanti alla legge e non importano il mio sesso, la mia razza, la mia lingua, la mia religione, le mie opinioni politiche, la mia condizione personale e sociale. 21. Ho diritto di manifestare liberamente il mio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 17. Ho diritto di riunirmi pacificamente anche in luoghi aperti al pubblico e senza preavviso. 13. La mia libertà personale è inviolabile. 16. Ho diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. 9. Ho il diritto e il dovere di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. 37. Come donna lavoratrice ho gli stessi diritti e, a parità di lavoro, ho diritto alla stessa retribuzione che aspetta l'uomo lavoratore. 4. Ho diritto al lavoro e la Repubblica deve promuovere le condizioni che rendano effettivo questo mio diritto. Troppo spesso diamo per sottintesi i nostri diritti. La Costituzione difende ogni gesto della nostra vita quotidiana.